Campo Marzo sorride per la festa dei Otto. Certo, il volto del parco è sempre lo stesso. Droga, spaccio, tossicodipendenti, sporcizia, degrado. Ma le forze dell'ordine oggi più che mai presidiano la zona. E anche se le armi legislative sono spuntate, rispetto al passato i controlli sono aumentati e i gestori delle attrazioni del Luna Park promuovono a pieni voti la nuova amministrazione di centrodestra. L'amministrazione comunale si è data da fare e ce ne sono molto molto meno degli altri anni. C'è più sicurezza, c'è due camionette dei militari, più carabinieri, più pulizia, c'è molto meno degli altri anni. Diciamo che siamo sulla strada giusta secondo me, si sta migliorando. Veniamo ad aprire le nostre attrazioni alle 10 del mattino, rimaniamo qua tutto il giorno fino a mezzanotte, e mezzanotte e mezza a l'una di notte. Vediamo tutto. Allora, sotto quei pini famosi che voi ben sapete che sono là, da quando siamo arrivati, quest'anno per la prima volta non abbiamo visto più nessun ragazzo drogato che vaga di qua e di là. Ne passa qualcuno, ma molto di rado. Dobbiamo dire, noi conosciamo bene la situazione perché venendo qua anche una volta all'anno magari vediamo di più noi perché siamo più osservatori, siamo lì sul posto e vediamo queste cose. E ce ne sono pochissimi, quasi nulla rispetto agli altri anni. Parola dei gestori delle attrazioni del Luna Park. La situazione è decisamente migliorata. Alla festa dei Yoto ci sono più famiglie e rispetto all'anno scorso anche il fatturato è cresciuto. In questi giorni io penso dal 15 al 20%. Anche per me c'è un incremento, adesso poi i morti si contano alla fine della battaglia, ma diciamo che come primi giorni, nonostante il caldo è un po' anomalo per il periodo, siamo abbastanza contenti. Vediamo arrivare che c'è un afflusso anche di famiglie quest'anno e abbiamo anche incrementato un po' i lavori per quel che mi riguarda di un 10-15% già rispetto all'anno scorso che era andata bene.